Lo sportello del cittadino e Polifemo si stanno occupando delle celebrazioni per il sessantesimo anniversario della consacrazione del santuario Nostra Signora di Fatima, sito a Talsano, Taranto. È un momento importantissimo e davvero toccante per la comunità religiosa di Talsano e di tutta la provincia ionica. Abbiamo partecipato alla conferenza stampa di presentazione degli eventi celebrativi del 13 maggio e naturalmente saremo presenti con le nostre telecamere e i nostri microfoni quel giorno. Il 12 maggio avremo il raduno dei santuari, sarà presente il comune di Erche, il comune di Laino Borgo e il comune di Carpignano Salentino che quest'anno festeggia il 450esimo del santuario della Mano della Grotta. Ci sarà questo interscambio culturale e sia il comune di Erche che il comune di Laino Borgo hanno offerto al santuario i concerti bandisti rinomati delle loro proprie città. L'11, come diceva Don Pasquale, ci sarà questo evento importante su Don Tonino Bello, in occasione del 25esimo anniversario della sua morte. si presenterà il libro, il presidente della fondazione che è l'autore del libro, Giancarlo Piccini, un incontro tra la città, la fondazione e il santuario. Ci sarà anche Fabio Zavattaro, un incontro sarà moderato da Nicola Pastore che guiderà e stimolerà gli ospiti a questo incontro.